Faccio in un modo particolare gli onori di casa ringraziando l'Università Cattolica che come ormai, se non ricordo male, da quattro anni, potrei sbagliare, ci concede di essere accolti come già fu per il nostro Santo in questo straordinario luogo per riflettere, pensare, condividere esperienze e così via. Dunque ringraziamo il Preside in assenza e tutta l'Istituzione Università Cattolica per questa accoglienza. Poi, sarò rapidissimo, frase che come sapete è pericolosissima, questa giornata è interamente dedicata alla spiritualità. Faccio un attimo di disambiguazione, forse a voi non serve, del titolo che ha sorpreso un po' di persone. Ancora ieri se ne chiacchierava con qualche amico qui presente. Il dominio mancante, questa parola dominio potrebbe essere ragionevolmente un poco fraintesa, però l'aspetto mancante, l'ambito mancante non sembrava poi così incisivo. Sapete che quando si parla di qualità di vita, o meglio, di vita di qualità come l'abbiamo più volte ribattezzata, il costrutto di qualità di vita si articola appunto in domini, nell'esperienza di questi anni, come spesso accade, ciò che è più importante rischia di essere l'aspetto un po' più trascurato, ma anche nella nostra vita. La spiritualità è certamente l'ambito più importante, capace di abbracciare tutto, di abbracciare il lavoro, di abbracciare la famiglia, di abbracciare il benessere psicologico, le relazioni, tutto, di abbracciare tutto, però rischiamo il dominio mancante. Ecco, questo è un po' il light motif della giornata. Saranno tutti ascolti, stamattina un po' più di quadro teorico, sia a livello teologico che spirituale, che poi scientifico, con l'evoluzione degli interventi in programma. Pomeriggio il taglio sarà più esperienziale perché ci confronteremo con alcune appunto esperienze significative di sostegno, di pastorale della vita spirituale delle persone fragili. La pianto qui, c'è il direttore provinciale dell'Opera Don Orione in Italia, non solo Don Aurelio Fusi, che molti di voi, la maggior parte, conoscono. L'arcivescovo, Sua Eccellenza, Monsignor Delpini, è in arrivo, per cui diciamo che la giornata parte nel migliore dei modi.